Sono un don, magari non è ancora Paolo, mentre alle mie spalle si predispone la scuola serata. Penso che ne vedremo veramente delle belle anche perché io non sapevo che Sandro Locardi, Armando Olivera, Giancarlo Piccinini, Giancarlo Prato, Paolo Cavanna, Paolo Pellati, Marco Calepavi, Brusasco, sapessero cantare. Mi hanno detto che abbiamo un bravissimo organista che si accompagna, Gianni Bagnasco, suggerisco un applauso anche per l'amico Gianni e a questo punto io vi lascerei le buone mani, mi tolgo qualunque responsabilità, tutta per voi, la scuola serata. Grazie. 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 non ci compiti il cuore? no ti puoi andare a mangiare? si ho avuto un cuore? non ci fai un tertulè non ti cazzo da te uè 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 du uè setteler uè e e e qui qui si Chi? Chi entra adesso? Sì. Ah tu sì cichinissimo. Eh? E' bella. Il San Pierlele cichinissimo. Ah sì. E' cichinissimo cichinissimo. Vieni, vieni, vieni. E vieni a vedere il pizzo per non stare. C'è chi? 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 E' chi? E' chi? C'è chi? La maita ho malacà. C'è chi? C'è chi? C'è chi? C'è chi? C'è chi? No, no, no. Està parlando d'imprudim no. La palguier. La palguier. Capir? C'è chi? Ah, come? C'è chi? C'è chi? C'è chi? C'è chi? C'è chi? Chih! No, di cui vi sè che VOC troviamo un avrespectore? C'è chi? C'è chi? C'è chi? Oh a tu? C'è chi che fa oh. Teleportava connessi. Exportava connessi. A se ti cessava unack a tuca, a so che sicuro che se li reclamino melloween. Oh sì, vieni, vieni. Vieni bello. Ma lo vorrei, perché la mamma non è mai bene. Ma qui sei giusto a me che siamo parlati. Ma sentite? Passate un riverso a tutti i giri. Ancora queste pediglie del giorno in passare a scuola. Non tenendo la cosa a dire. E pensamento alle figlie miei. Allora, adesso fumo silenzio, che fai la pere. E qui che fai la pere? Arriva a dir, arriva a dir. Poi non parlare? Oh, non manca ancora 35 anni di pensione per me la testa. Ah, io ho dici. Adesso facciamo la presenza. Stecite un momento. Coraggio Giovanni, Sgoncia Luigi, Tuca Vincenzo, vola Filippo e resta terreno. E manca tutto bene. E se faccia un denerdì. Guarda, mi sa che te li faccio un film. Risponda al menù mondi. Pallo se a me. Sì. O spulsa me con chi li faccia la prega. La bismegger ti sa libere. Al conto mamma. E la seconda? Sì, per quanto mamma. E la terza? La terza? La terza è il conto sorella. E poi la quarta? La quarta è che fai. E la terza? E la terza? E la terza? E io posso scappare da mangiare? Papà? No, grazie. Sì, fumo silenzio, fumo poesia. Se te lo dico qui, con la maestra, sono non connessi per la prima. Ancora sai che dopo un po' io ho un mestre, dopo la capire il mio carattere. E poi sono un son, ma finita bene tutto. Le macchie per sulle, c'è un sì d'amsoio, attica ripetizione. ventura, ventura qui da me, senza gel, e ricordi che devi mai strengli. E adesso, a Roma d'arte, senta un po' sgoncia, perché te la faccia da fuori. Amm, dite qualcosa, insomma, che non ho faccio da fuori. Ma non ho faccio da fuori. a me, a me mai fatto senti qualcosa con Napoleone, forse eh, un po' tengo una fea che Napoleone era la mia specialità a diria su te no, 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 no aveva patit un record del batalla ma l'ha mai batallat con la sorella Paolini oh, cuculalà che socia che socia il chamavo il grande forzo ma con que le castan disgrazia d'amcorso le pentax tritxos durante la ritirata a Ruizia, una bona part di su soldan era esguiai la vaselina la vaselina, la vaselina la vaselina, peresina peresina, eh, va bé e un'altra batalla famosa la perc a le cul et va ter clor eh, que si e io qui sono maresial più famosa us chiamava Bernardo si, si, si no, no, no no, no, no no, no, no no, no no, no no, no no basta, basta, basta basta basta, basta che chi viene da perdere la strada di casa. Adesso sento un amore. Chi è? Eh, ha detto che c'è l'era di arrivare. Si, facciamo anche l'era di arrivare. Eh, passiamo, sono un terrico la stagia, ma adesso non è l'ultimo. Insomma, io mai stagio in vita vostra, adesso è di seguità proprio a essere qui niente. Va bene, stai tenuti oggi. Ha certo il ruolo, ha certo il ruolo di tecna stigia. Garibaldi è in America, ha la conci... la nitta. Eh, sì, sì. Poi, poi, quando ti arriva, altra nitta, ma tra stuva. E' un po' E' un po' e' un po' e' un po' coraggio. E che è niente che ne dava insomma Garibaldi? Beh, guarda, lei è sorseglie, eh, che Garibaldi l'era trovata. E che cosa dici? Ma dici al sembra, dici. Adesso sempre andavano in giro con le aulina, quindi, finché non provate, dici, ma... Rasta, se ti fai, oh, perché ti ando verso io? Se dico rosari, eh, no, eh, no. E allora, se ti fai, posso sapere se ti fai? E tu che tu come da una ora pensava la morosa. Tu che, scolta, c'ho, vedi il massimo, e ti rasta, su tua pista, tu morosa, se ti fai, se ti fai, se ti fai, ma se poi ti la dica, al massimo fa, beh, ma, ma allora la sua morosa è una bella. E la bella c'è la tua morosa. Cosa? E le altre, in Geruda. Pensa, c'è una volta, che io tu cana di Alem, a partire gli slavalosi, ma se a me si guarda qui, a con una corna, ma tra c'è un taglia mezzo. Anfei, sta morosa, la poesia anche in Montoro, sai qui? in Montoro, se ti fai un contone, hai largato la cuca. sì! E poi, a me che te hai la testa fassata, la sara mia stasera a tornare. Oh, no, le stasera in incidere. Ier sera, a pedalava un picciclotto, a mezzo la nebbia, cosa scerava l'entra una spana da un anno. Hai un po' a risa, io ho visto i fanali, anche questa onza, io lo tumbo torretti. Ma per nanti invenu d'os, andava a la mesadria, no? Eh, 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 a la mesadria. Ah, io sei pas al mezzo. Eh, claro. che è un po' a risa, invece, l'era già. E adesso, e adesso, è stato qui. Eh, a perdita un po' di sonno, no? No, un anno in Druga ha un po' di barlume di rocca, barlume di rocca. Se che era il Druga? Ah, di che? E poi ti sa che l'ultra era che mi ho fatto esame di un sangue per dire che c'era il polistirolo. Eh, polistirolo, sì. Eh, e beh, io ho fatto esame, io ho già usato il sangue sul divanetto. Giaccia, 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 e io sono gli spitali al cibo. Non c'è il paneo, si. E, piccoli eh. Buonasera, su maestro, non scusate, eh? Non, non, non. Com'è un terretore? Si. Com'è un'altra cosa? Si. Com'è un certificato sanitario? Eh, si, si, si. Non mi faccio. 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 Certificato sanitario. Eh. maestro di scuola elementare. Dopo si è stato visitato da una commissione di medici psico. Sì. Si. Pu' dire che a presto la parola è che a presto non ti sa cosa? Si piace. Si. È stato dichiarato sano, del comune e del medico. Specialmente me! Ma fa un po' gente! Che cari avete voi? Cosa ci sono bisogno di portaparare con un direttore? Eh? E' la confine l'occhio, eh? E' il mio sostituto! E' il mio spazio a parte di avanti? No, no, no! Ma che non siamo incastati, eh? No! Ma siamo incastati! Sei mai il ciame da Paolo Paolo! E' vero! Posso sentirne qui per prima s'entrata da noi! Sì! E' vero! E' vero! E poi visita bene! Ricorda bene! Che io sempre! E' niente che tu la faccia! Ma che tu la portavi a capire! Eh? 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 Ah. Tanto la presenta tutte le altre strisce, eh? L'acqua 二 stellen che davanti al PD e devi stare a setà, perciò seduti. Si capisce? Ma hai ragione, questa è setà. E te? E gli ho detto seduti. E te, tutti. Ma vinti neanche a capo le cardanze. Allora devi dire che neanche a capo le cardanze c'è percorrere. Divinti che neanche a capo le cardanze c'è percorrere. Sette. Sette. A parlare del tralucco? Ah, a parlare del tralucco? Sì, subito, subito a favore. Ma dici un po'. Ma dici un po', senti me. Eeeh! Le miei prospettai sicuri più vecchi tede, scaudate brevi e brendentate. Guardate qui. Ma tu, eh. Attila da gamelucco. Ma non attila da gamelucco. Ma non attila la quinta elementare. Am certo imposta capo fissi sotto al Stato. E poi da gamelucco. Ma guardate. Qui era una freddice capo fissi. Non dava la prevedenza, eh. E poi la persona vive la da gamelucco. Ma poi adesso con dirigente. La dirigente, dirigente. Poi vive la persona. Sì. Sì. Ad la gamelucco. Eh. E allora si vuole un'altra. Ma s'aviva anche in tempo in desert. Todo? In desertio. Sì. Ma sono trovezza. Sono trovezza per tanta carriera. Per piccolare carriera. Ma guardate. Ma guardate... le terze elementari, no? All'indacciante l'esercito, e dopo tutti i campani che la faccio, e c'è, e l'indacciante ciò che calava al grado a colonnello, ma buono, c'è, poi io ero anche Soffiorno, Soffiorno aveva la sconda, la sconda elementare, no? E beh, è una bella carriera, fa l'attivista alla camera, però non la raccomandava, alla camera. Ma lei è dentro, ma è stata raccomandava la sidera, sì, la sidera, è una coppita buona. Sì, sì, faccia solo, per sapere, faccia le città, i cuori, ma sì, io non l'avevo a me, ma no. Ma invece, io in visco questa macchina frutti. Allora... 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 E che cosa fa qua dalla... Allora... Anche me, a proposito di trampoli, la maznaz, quando aveva i duri segue, mia mamma lo chiamava pederasta. Beh. Allora... Allora... Sì, 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 è vero il caso della musica, è vero, è vero, però il caso della sinfonica. E qui chi è il tuo tour preferito? Chi è il tuo tour preferito? Allora, fai pensare, allora, bella, donna, vagnè, sui è scopì, no, non è sa. Ah, San Sebastiano Bac, sì, San Sebastiano Pugosi, e Bellini, lo colpi tu, ma Bellini? Dice, c'è il della Tuca, c'è il della Tuca, allora Tuca, Tuca, senti se tu hai detto un po' qua. Eh, io senti, senti, è maledicato, comunque per sapere qualcosa di Bellini, bisogna che diciamo a me fra te che sta a Genua. Dimmetta che anche lì le mette, ha insomma due pinelli, e questi due dovete separare. Oh, ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. La tua pastura è ancora dentro del mondo dell'Ella. Beh, io ti chiamavo papà, che tempo fa? E la cesta è ancora una villa da Snobabbo, come quella del principe Ragnieri e Trocca Grimata. Questo è tutto! Questo è tutto! A vostri giudici! A vostri giudici! Lascia parlare! La cesta è del vaccino! Lascia! Lascia! La caccia è del vaccino, il camerino con la libriera, e anche la cacciatura! E tu, a sotto i fuori, quelli alla Malpesa! E tu, la villa, è un paio spesso di montagnola, con i giardini prezzini, che non c'è anche il Lago del Cilico io, forse! E' un paio in fondo alla vasca, al post del prei, qui alla street by. Come volevo esprimostrare, Montagnola e Marli. Perché pensate agli affari tuoi, agli affari tuoi, sei affari, perché io voglio spiscarsi se vuoi, ma vi cercherò io. Quando tu hai vicenza, tu hai vittancito la supplente, e poi la scusai almeno. A proposito, a proposito. Ce quei ero? Toffio. Si? Toffio. non è nulla ma c'è lì tu sta bene e la testa fa forza un anello mi ha mai chiamato tu da me da me e mezza fa la sede qua ancora ieri a lei ha stacchi giudando i suoi compagni non mi lo lasciare perché a te di nuovo no, qua non c'è ma Ma, invece da me, niente, non ho mangiato da me, non mi ha risposto niente, l'hanno a te, ma ti dirà per farlo. E se, se che io faccio, a su un volatavarci, e allo brancanti strassi. E poi se che hai fatto? Se che hai fatto, se che hai fatto. Allo mattino a ferrovia, a scelta a capare. Eh, ma la curva l'ha, l'enzumana. Tipo l'enzumana. Perché? Perché non senti a me, con il mio vincito, anche in tiva, che devi mai rispondere ai genitori, specialmente al papà. Guarda, guarda Corazio. Che tuo fiore sia un sicuro, che è da compagno a te. A un fondo e una mazna. Ma che te, sopare, ti hai capo l'ombarda con la finestruna, eh? Oh, come l'ora, signora. Eh, ma datti dire. C'è questa confidenza. Di qua che metto vi stanassi, eh? Qua che metto vi stanassi. Us mi hava fina bene. Us mi hava fina bene. Us mi hava fina bene. Sì, è un soggetto. Sì. Ma è molto colorista anche me, eh? Ma tu la guardi nella signora per finiremo la vita. Sì. Ma che, te li portavo con lei, hai avuto il campaglio. E perché? Ti hai colchie in tlaia. Ti hai colchie in tlaia. E quando ti girai, eh? Non ti guardo in faccia. Due donne hanno la cittrappatella. Ma non è meglio che dico. Fate capire, signori, signori. E ti portate anche lontano. O la Fentani, alla Fentani il pesine. Ma va a caldare. Va bene, va bene, va bene. Ma non mi sta nascendo. Facciamo silenzio. Adesso è che questa parla l'italiano. Facciamo silenzio. Cambiamo il rumore. Allora. Allora. Esatto. L'è ancora buon'ora. Però non puoi sentire che non sono chiesti per capire. Oh, no. No. M'è insomma da sgoccia. Ti. No. Mi è contenta. Sto a rongerare. Allora. 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 Eh. Continua bene. Il sasso che viene fuori in opera. Allora. Allora. Guardiamo un po'. Ma dimmi un po'. Ma mi è rosa un po'. Che aveva visto i scapernacoli. Sì. E hanno pensato. Io mi avevo il cartello da poco. Sì. Ma io ti te lego. Ti te lego. Sì. Sì. Posa qui. Allentinate il cuore di voi. Ma la cazzo. I fatti proprio gli affari in droga. I fatti affari in droga. Ma io ma anche il piano fa. Ma è. Ma è. Di scappare. Sarà scappare. L'avrime vergogna. Giuliate. Merda. Oh maestro. Che non ci facci caso. Che non ci facci caso. Che non ci facci caso. Allora. Allora. Adesso. Non ci facci caso. Di. Betas le zio cilè. Fa spiasi. Uru. O rocco. Scusi l'italiano. tà guardumo un po' se dei buono feri. Sì. Un piccista. Ma un cappone. Sio lì che sto qui e connie. Ma mi raccomando. Sta a dire la ne con la musica. Noi stai da là! Perché ti mostraste voi ad ora la musica? Ma ti spesso qui di questa carattiera! Noi stai da qui! E' non so ne andava a ricevere la caccia del ruolo! Dammi un sìbemore! L'è il dì! Fa' netto un lup! Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, Sì, Sì. Sì, 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 , Sì, 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 Io sarei una canzone, netta recente, no? Modernissimo, dice il maestro, te lo so, ma l'avrà fino a 80 anni, saremo, saremo anche più. All'è una confessione che la fa, sua mamma, una figlia e la figlia sua mamma, io non non puro capire, comunque è sul motivo di balocchi e profumi, attenzione, prego, eh? Pili pallidi pili, mando testata, e di clecuta sternata, nei tuoi occhi piedi di lucenza, come è intrati la violenza, di chi l'è stato, cuta di tutta così. Mamma! Pili pallidi pili, mando testata, chi è che m'ha sternata? Era uno studente strano, ma aveva minacciata, con un bastone in mano, e colpio facciale, che ti fai sempre anche te. Figlia, figlia mia, mi scrazia, per inna panciulla gaia, ora che sei stata di volentà, un bena, un bena, per la scaria, e su di attesa, fare la carriera, empresa. Ma tutto il peccato è stato, meno, meno ce l'ho inventato. Lo studentino bello, che poi ho violentato, hanno lasciato il sgabello, mi cambiò il salario. Ma tutto il peccato è stato, meno, meno, meno. Ma tutto il peccato è stato, meno, meno, meno. Ma tutto il peccato è stato, meno, 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 meno. Ma tutto il peccato è stato, meno, meno. Ma tutto il peccato è stato, meno, 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 meno. Ma tutto il peccato è stato, meno, meno. Allora, avrebbe dovuto chiudere, dico avremmo, perché il tempo ormai l'abbiamo superato, con una poesia di Germano Rivera. Però io colgo l'opportunità e l'occasione per ringraziare che si è dato la possibilità di realizzare questo studio.